186esimo giorno dall'inizio dell'anno, siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda Santa Elisabetta del Portogallo. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Elisabetta. Il nome ha origine aramaica e significa il signore giuramento. Il numero porta fortuna è il 2, il colore è il verde e la pietra associata allo smeraldo. Accadde oggi. Il 4 luglio del 2012 viene osservato per la prima volta dagli scienziati del CERN di Ginevra il bosone di Higgs, noto anche come la particella di Dio. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 4 luglio ricordiamo il patriota Giuseppe Garibaldi e l'attrice Gina Lollobrigida. La citazione del giorno. Nessun gesto di gentilezza, per piccolo che sia, è perso. Esopo. Dice il saggio. Ci sono molti uomini buoni sotto un cappello trasandato. Il bel paese. I laghi Alimini o laghi di Limini sono due laghi pugliesi situati a nord di Otranto. Si tratta di due bacini, uno di acqua dolce e uno di acqua salata, collegati tra loro tramite un canale chiamato Lustrittu. Si trovano immersi in una natura incontaminata, in uno spazio paludoso dove si possono effettuare osservazioni di molte specie di uccelli migratori. La parte costiera, invece, è costituita da spiagge bianche con dune e pinete e acque cristalline, dove è possibile fare immersioni a pochi metri dalla riva per scoprire le meraviglie del relitto della Dimitrios, una nave greca che si incagliò vicino alla costa nel 1978. Grazie al vento costante, le spiagge dei laghi Alimini offrono anche possibilità di praticare sport acquatici.